Sto facendo questo challenge E' un altro momento E' un cheo E' un bel leggero A poco ti ando Io mi chiamo Adriana E come stai chiusi Guarda di Swisper Challenge pensavo che era finvo quello che mi piace e tu? e non mi piace tu mi piace, sei tutto sì è stato acco io voglio che lavorare la mia colla ma sei prevedibile voglio provare? ok mi risponde mi risponde? sì ora ho stendio sulla colla ho stendio sulla colla mi patrullo per la mia colla mi piaccio E' stato un po' di più, comunque è un po' di più, comunque è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più. No, non è tossa musica. Se l'euro di quando lo sapevo... Perebbe lo scredito. Perfievo! Perebbe lo scredito? Perfievo! Ti ad essere sottile all'acchir. Prego provare che lo scredito all'acchir? Lo scredito all'acchir è anche un problema! Paglia! Ebbene invece che è stato pointo che ci fossero Oestelios e Andrianna! Quelle intenzione? Non credo così! Voi avstridero le carrierelle Non è vero. Non è vero. Ci sono anche difficili. Non è difficili. Per esempio, i giocatori non sono difficili. Non è vero. No. Ho 3 minuti. 10 lettori, giocatori. E prima cosa hai avuto. Ok. Ok. È facile. Non è vero. 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 c'era Cino? Percamos. Percamos. Percamos! Che ultima e vi è percamos. Paurizzo. Paurizzo! Paurizzo. Paurizzo. Che cazzo? Paurizzo. Che cazzo? Paurizzo. 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 Nyaurizzo. Paurizzo. Paurizzo. Papira. Capira. Capira. Issa capira? Papira. Papira. Muttas. Mustarda. Muttas. Muttas. Eberle. Avogatearlo. Muttas. Mu. Muttas. Chagaduri. Charlui. Chagaduri. Paso. Flopcos. Paso. Flopcos. Flopcos. Eberle. Cocino tremica. Cocinistr. Cocino tremica. Cocina tremica. Cocino tremica. Sanna. Cocino tremica. Cocina tremica. WTF? Cocino tremica. Treman. Il mio frano è già usato L'hova 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 Cosa L'hova 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 E' un po' di più iniziare a parlare di 9 alle 10 Credo che abbiamo anche 10 anni Credo! 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 Sì, credo! Abbiamo solo 3 minuti Sì Abbiamo avuto iniziare le 10 alle 10 Prima di 3 minuti Quindi, se abbiamo avuto iniziare le 10 Prima di 3 minuti non stai in a coma non mi zunno va a capire chuchucos vlangui 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 vla 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 vlangui carcola carcachalicchi 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 ziligurti ziligurti mutulas 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 mutu las cotacachalicchi sters cutacachalicchi chesmenos timismenos chesmenos Che smenos Male Che smenos Cimi smenos Oh i cimi smenos Che smenos Che smenos Che smenos Che smenos Logico Non mi so dire qui Che smenos Passo Che smenos Che smenos Che Che ssmenos Che ssmenos Che ssmenos Che smenos Che smenos Che smenos Yes This is the man What did you say about this man? What? You have to use it I have to use it What do you say? One taxi Yes I have to use it 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 You have to use it You have to use it You have to use it Yes, but you have a wrong answer Honestly, we have all the wrong answer We have to use it non è solo il piatto non è quasi lato guardate che mi fa male di potere non è un'attività è un'attività non è un'attività che ci ricordiamo un'attività questo è stato il video per oggi un'ottifizzo un'ottifizzo e share Grazie a tutti i miei figli di tutti i social media. Buon giorno!